Recensione di LG Elfino, uno smartphone che esce un po' dalla famiglia L-Style ed entra nel design della famiglia G. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, recensione di LG Elfino, smartphone presentato abbastanza di recente, si è visto per la prima volta per bene soltanto a IFA di Berlino a inizio settembre, insieme a LG Elbello. I nomi sono particolarmente comici, va ammesso, almeno in Italia, sono due nomi comunque di origine spagnola e non italiana, quindi si pronuncia proprio Elbello ed Elfino e non L-bello ed L-fino. Questo è l'alimentatore con prese italiana, cavo USB, micro USB, cuffie auricolari stereo contro il comando sul filo, manualistica rapida, via da una parte e dentro il nostro LG Elfino. Smartphone curioso dal punto di vista estetico perché ricalca la famiglia G, quindi G3 e G3S. curioso oltre che al nome ovviamente perché è un nome abbastanza particolare, ma smettiamo di indugiare sul nome e parliamo del telefono. Questo smartphone ha questo design con i tasti posteriori, vedete non ci sono altri tasti, qua sopra abbiamo il secondo microfono e il jack audio, sotto la porta micro USB è il primo microfono, qua sotto lo speaker che purtroppo è in una parte abbastanza piatta dello smartphone, infatti lo smartphone non è poi così bombato come potrebbe sembrare. Tasti del volume sopra e sotto, tasto di accensione, fotocamera da 8 megapixel con LED flash. Vi faccio vedere che i tasti sono molto meno in rilievo rispetto a G3 o G3S. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mi è successo varie volte di arrivare a premere il tasto del volume su, in particolare invece del tasto di accensione, perché erroneamente non riuscivo a riconoscerlo con il dito, purtroppo è una cosa che succede più che sugli altri modelli precedenti. È abbastanza spesso, sono 11,9 mm, abbiamo poi un'altezza di 127,5 mm e una larghezza di 67,9 mm, batteria removibile da 1900 mAh, sotto c'è lo slot per la micro SIM e di lato quello per la micro SD. A differenza degli altri smartphone della serie G, i tasti, vediamo se lo dico in modo non troppo toscano, i tasti sono inseriti direttamente in questa piastrina all'interno della scocca. Cosa interessante perché rende questi tasti più, scusate, questa cover più rigida rispetto a quella del G3, il che è assolutamente un bene, ovviamente a discapito un pochino della robustezza. Ok, andiamo a chiuderlo, giriamo lo smartphone, risveglio con il doppio tocco, eccolo qua. Purtroppo non è presente un LED di notifica, il che è veramente un peccato. Andiamo a sbloccarlo, oltre al doppio tocco è possibile abilitare anche il Note Code, che ci permette di sbloccare, quindi non solo risvegliare il display, ma proprio sbloccare il telefono, battendo fino a un tot di punti in varie zone del display, quindi una specie di codice segreto, appunto codice di bussata, se così vogliamo dire, e quindi sbloccare lo smartphone a piacimento senza dover toccare nessun tasto fisico. Questo perché ovviamente, perché essendo i tasti posti sul retro, quando è appoggiato su di un piano almeno, possiamo raggiungere, risvegliare lo schermo anche senza doverlo sollevare dal tavolo. Schermo 4,5 pollici, risoluzione 800x480, è uno schermo IPS, devo dire, buoni colori, buona luminosità, peccato che non sia disponibile la luminosità automatica. Passiamo da un molto poco luminoso a un molto luminoso, qui ci sono anche i controlli del volume, visto che altrimenti dobbiamo sempre sollevare lo smartphone dal tavolo per regolarne il volume, premendo su questa rotellina possiamo regolare tutti i volumi di sistema. Dicevo, la luminosità non è impostabile in modo automatico, dobbiamo sempre agire manualmente, il che è un po' un peccato perché dobbiamo intervenire abbastanza spesso sulla luminosità, ovviamente, perché passando da zone più o meno illuminate. Gli angoli di visione sono abbastanza buoni, non perdono troppo il colore, ecco qua lo vedete. Peccato che comunque lo schermo rifletta abbastanza, questo è un altro piccolo difetto del display. Android ha la versione 4.4 KitKat, vedete qua l'interfaccia che è la stessa vista su G3 e ancora più in particolare sul G3S, visto che hanno una dimensione più simile rispetto al G3S. Qui abbiamo tutti i toggle personalizzabili, riordinabili, vedete, trascinando queste linguette, e possiamo scegliere cosa abilitare o cosa disabilitare assolutamente a piacimento. Andiamo nelle impostazioni. Dicevo, Android 4.4 KitKat, 4.4.2 KitKat, processore Snapdragon 400 Quad Core da 1.2 GHz, 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna. Allora, la memoria interna è veramente il tallone d'Achille di questo smartphone. 4 GB di cui disponibile all'utente circa 1,8 GB. Infatti, se andiamo a vedere qua sotto la parte rossa, quella più utilizzata, 2,18 GB sono occupati dallo stesso sistema, lo vedete. Quindi, questo telefono, almeno nella nostra prova, ha avuto sempre e perennemente la memoria piena. Abbiamo dovuto disinstallare Mailbox, ho dovuto disinstallare Facebook, ho dovuto disinstallare un sacco di cose per fare spazio a ciò che mi serviva per la recensione. Per installare il gioco ho dovuto disinstallare i benchmark. Insomma, 4 GB di cui meno di 2 è disponibile all'utente, il che in realtà la proporzione è anche abbastanza normale. Ci sta che il sistema occupi 2 GB, anzi non sono poi neanche tanti. Però, la realtà è che quello che rimane è veramente troppo, troppo poco per l'utente finale. La memoria si può espandere, lo vediamo qua sotto. Abbiamo installato una scheda SD, abbiamo spostato le applicazioni spostabili su questo SD. Più di tanto ovviamente non si può fare, e quindi lo smartphone si riempie molto molto rapidamente. Connettività HSDPA fino a 21 Mbit per secondo. Andiamo a vedere, ok, è presente, volevo far vedere che era presente qui l'NFC. Se andiamo nel tethering e nelle reti, vediamo però poi che non è disponibile funzionalità di mirroring dello schermo. Wi-Fi BGN non molto potente, devo dire la recensione non è potentissima. Bluetooth 4.0. Abbiamo poi, nelle impostazioni generali della batteria, la possibilità di abilitare un risparmio energetico, scegliendo cosa deve disattivare e cosa no. Quanto abbassare il time out dello schermo e quanto abbassare la luminosità. La batteria da 1900 mAh non mi è sembrato poter garantire un'autonomia così grande come mi aspettavo, specialmente dagli smartphone LG, che in passato mi hanno dato veramente grandissime soddisfazioni in termini di autonomia. Questo LG è il fino, invece purtroppo è solo nella media. Vi porterà con un uso medio intenso all'ora di cena, se però dopo cena dovete uscire ci vorrà senz'altro un'altra carica. Se trascino dal basso verso l'alto posso attivare Google Now oppure Quick Memo Plus, clic Quick Memo Plus attivabile anche dalla barra delle notifiche. Dalla barra delle notifiche posso anche attivare Qslide, è attivo di default ma mi sembra veramente assurdo rubare tutto questo spazio alla barra delle notifiche. Siccome è possibile personalizzare la barra del sistema qua sotto, io ho scelto di mettere le applicazioni di Qslide qua. Cosa Qslide mi permette di attivare delle piccole applicazioni in finestra che posso rendere semi trasparenti per continuare a interagire con il resto dello schermo sotto. L'altra voce che vedete qua che ho inserito è quella per tirare giù e tirare su la tendina delle notifiche. Potete personalizzare il colore della barra qua sotto, vedete ora è nera, potete cambiare l'ordine, potete cambiare quali tasti mostrare. Veramente una funzionalità molto molto utile che ci fa molto piacere anche ritrovare in uno smartphone di fascia inferiore. Ok, direi che è arrivato il momento di dare una prova alle applicazioni, quindi iniziamo dal browser, impostiamo la vista desktop e andiamo sul sito di Repubblica. Tastiera che è possibile personalizzare, possiamo scegliere quale tasti della punteggiatura mostrare e possiamo anche scegliere quanto alta fare la tastiera, quindi sacrificando un po' di quello che si vede dietro la tastiera possiamo personalizzarla e rendere i tasti più grossi di quello che sono. Aspettiamo che finisca il caricamento del pesantissimo sito di Repubblica.it. Ok, ecco qua. Aspettiamo che carichi un po' di immagini. Allora, ci mette un po' ad aprire il browser, ci mette un po' a fare il primo caricamento e anche dopo, vedete, non è che sia proprio il browser più fluido mai visto. Diciamo abbastanza in linea con l'hardware. Ho visto smartphone con Snapdragon 400 avere prestazioni migliori di questo. Se premo il multitasking, il multitasking è quello che si vedeva anche su G3 e G3s, posso chiudere le applicazioni così oppure posso chiuderle tutte in questo modo. Vi parlo di fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel con LED flash, l'avete visto, che è il punto su cui l'azienda ha voluto puntare di più, almeno nel suo promo video. Premendo questi tre punti possiamo nascondere o mostrare l'interfaccia. Se la nascondo, praticamente porto dentro questo holly. Questo è uno spoiler, lo recenseremo presto su AndroidWorld.it. Posso quindi nascondere tutto e appena premo mette a fuoco e scatta. Altrimenti, vedete che possiamo abilitare questi tre punti, questi moltiplici punti, che in realtà sono nove punti, in base a dove metto a fuoco. Ecco qua, trovo i punti di messa a fuoco. Le opzioni di scatto sono pochissime, modalità classica o panoramica e foto foto da 8 megapixel, 6 in modalità, scusate, in modalità wide, quindi in 16 noni, fino a scendere a 5 a 3. I video purtroppo solo in 800x480, che è veramente, veramente poco. Vado nella galleria per parlare della qualità degli scatti. Vengono un po' scuri, purtroppo manca l'HDR, quindi all'aperto, quando c'è il cielo particolarmente bianco, come oggi, in cui sembrava che qui a Firenze dovesse piovere, come potete vedere, manca una funzionalità HDR che possa un pochino dare vigore ai colori di tutta la foto. Quindi le foto vengono in generale, anche al chiuso, un po' scure. Ci sono comunque, devo dire, un discreto numero di dettagli, guardate qua, il che non è veramente male. Andiamo a beccare il nostro condizionatore di LG, su cui zoomiamo sempre. Quindi, veramente un buon numero di dettagli, qualche funzionalità aggiuntiva, come per esempio lo scatto chiudendo la mano, se utilizziamo la fotocamera frontale, oppure il flash frontale, che in pratica lo schermo diventa tutto bianco, c'è una piccola finestrella con l'anteprima e quindi illuminerà il nostro viso, dando colore appunto al nostro viso. La GPU è una Dreno 305, manca nella nostra prova necessariamente Asphalt 8, ci è stato assolutamente impossibile scaricarlo e installarlo, visto la poca memoria interna, alcuni dati sarebbero andati su SD, ma comunque la memoria interna non bastava per mostrarci, scusate, non bastava per l'installazione di Asphalt 8, detto proprio semplicemente. Quindi, ripieghiamo su Asphalt Overdrive e, bah, devo dire, onestamente, non sono rimasto sorpreso dalle prestazioni. Non so bene se è il gioco a cui io personalmente non gioco particolarmente, quindi, diciamo, non conosco benissimo le prestazioni di questo gioco sugli altri smartphone, però, in tutta onestà, mi aspettavo qualcosa in più. Si tratta di una specie di running game con le auto. non apparente, non so bene, ha, beh direi basta perché sennò mi diverto troppo e poi invece voi al contempo vi annoiate il player musicale è più o meno quello stock di LG visto e rivisto che funziona molto molto bene gli altri sono abbastanza squillanti il volume è molto alto ma come abbiamo detto fin dall'inizio lo speaker non è in una posizione fortunatissima quindi il suono si attenua abbastanza tra le altre applicazioni preinstallate troviamo il meteo di LG basato su AccuWeather che è abbastanza bello devo dire da vedere abbiamo poi il centro aggiornamenti un software per le attività un file manager personalizzato da LG che ci permette anche di accedere a Dropbox e di dividere i file per tipologia di file Quick Memo qui ne abbiamo già parlato abbiamo Quick Office anzi no mi sa che ora non ricordo no dovrebbe essere Think Free Viewers scusate Quick Office mi sa che si è rininstallato con il ripristino dei dati l'ultima volta e infine anche un registratore audio e la radio la radio FM porto un attimo lo smartphone fuori per fare la classica telefonata di prova non mi sono trovato né particolarmente non sto per dire né particolarmente bene né particolarmente male ma così sarebbe percepito che non mi sono trovato bene invece non è questo il caso se la wifi non è potentissima il segnale dello smartphone l'ho trovato molto stabile molto potente audio molto squillante come avete sentito con il viva voce giusto perché sono andato comunque abbastanza veloce perché alcune cose non ho potuto mostrarvele posso farvi vedere anche video sample video sample l'unico che funziona è il DVX nessun filmato in HD o superiore funziona ok prezzo di vendita di questo LG L fino 169 euro quindi meno di LG L70 al momento del lancio condivide moltissimo con LG L70 rispetto a L70 in più ha sicuramente una fotocamera migliore ha uno software migliore una batteria un po' inferiore ePrice lo vende già a 156 euro noi l'abbiamo preso appunto su ePrice.it quindi già comunque si tratta di 13 euro meno il che non è poco è quasi è quasi il 10% di sconto è uno smartphone che non ha particolari non ha particolari problemi se non consideriamo la memoria interna da 4 gigabyte che comunque è un particolare problema perché come avete visto se contate di installare tante applicazioni o magari un qualche gioco pesante potreste avere problemi se vi interessa solo Whatsapp Facebook e poco altro quindi magari lo smartphone per vostro amato o vostro padre visto che lo chiedete in tanti è un grandissimo classico questo Elfino può comunque sicuramente andare bene per questa recensione di LG Elfino è tutto un saluto da Emanuele Cisotti Grazie